Saranno 10 le assunzioni volute dal commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Antonio Candela, che stamattina ha tenuto un incontro con medici e giornalisti per presentare il nuovo programma per la salute dei pazienti ricoverati o in cura presso la struttura. Per loro in programma anche attività sportive per il mantenimento delle condizioni di salute psicofisiche. Dal 7 di aprile, quindi tra pochissimi giorni, saranno assunte 10 persone, saranno presenti nuovi dirigenti medici radiologi, ci saranno dei fisiatri, degli infermieri e dei tecnici di radiologia. Quindi immettere 10 risorse umane in questo presidio è un segno tangibile di come vogliamo potenziare e migliorare la qualità che Villa delle Ginestre deve offrire nell'ambito della disabilità. Il programma prevede, oltre a queste assunzioni, sono qui presenti i nostri tecnici del Dipartimento Proveritorato e Tecnico insieme al suo capodipartimento per ristrutturare tutte quelle aree che sono antistanti alle mie spalle, dietro, alla stalla dove c'era il cavallo.